Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video guida in cui voglio mostrarvi dove poter trovare la falena lucente situata presso l'altare della riflessione. Quello che dovrete fare sarà innanzitutto raggiungere quest'area e per farlo vi basterà far partire una qualsiasi delle missioni altare della riflessione che potete comodamente trovare nel trono mondo di Savatun. A questo punto dovrete semplicemente proseguire la logica delle combinazioni sarà la stessa di sempre quindi dovrete sempre sparare alle colonne con almeno un simbolo diverso dalle altre e giunti nella stanza finale in alto a destra vedrete la possibilità di attivare la vista profonda quindi attivatela saltate sulle piattaforme come mostrato in video e raggiungete così l'ultima falena lucente. Ragazzi vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto vi lascio la clip video un saluto e ci sentiamo la prossima ciao a tutti ragazzi e a 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 Grazie a tutti Grazie a tutti